Come procede la programmazione del futuro? Per il momento ci godiamo questa vittoria, questo è un campionato bellissimo, siamo riusciti a creare un ambiente sereno, finalmente dopo anni, un gruppo fantastico, uno staff tecnico eccellente, e adesso appena finito il campionato, manca l'ultima giornata che verrà disputata il 12 maggio, cominceremo a programmare la prossima stagione. Mi dici solo una cosa, ti do del tu perché siamo della stessa città, quindi anche se è Presidente in veste ufficiale mi permetto di darti del tu. C'è stato qualche telefonata, qualche messaggio per mostrare interesse a una società che ha zero debiti e che ora è in una categoria che comincia a essere un po' più interessante? No, fino adesso non c'è stato nessun avvicinamento da nessun soggetto, da nessun imprenditore. Da imprenditore aquilani non ho ricevuto né chiamate né manifestazioni di interesse. Io sono già al lavoro, mi incontrerò con alcune persone già la prossima settimana, stiamo cercando di tentare tutte le strade che possano portare a una programmazione dell'anno prossimo ma come di anni futuri. Che progetto c'è a medio termine? Il progetto a medio termine è quello di continuare quello che abbiamo già avviato. È necessario potenziarci, è necessario avere il supporto di imprenditori, il supporto maggiore della città, di tutte le istituzioni, abbiamo bisogno di tutti. Lo sport, come ha detto prima il presidente Sebastiani, è in crisi. Non solo il calcio ma è in crisi tutto lo sport perché poi all'Aquila viviamo anche la crisi del reggae e degli sport minori. Quindi bisogna, secondo me, piuttosto che continuare a pensare di trovare il patron della situazione che viene in città e investe milioni di euro per portarla su, cominciare almeno da queste categorie più basse ad avvicinare la città. Tutta una serie di personaggi che all'interno delle città possono contribuire sia economicamente sia con l'impegno personale a far crescere queste idee che noi stiamo mettendo in campo e che continuiamo a comunicare.